Mi fece rendere conto che la compagnia delle donne mi era indispensabile. L'uomo chiamava le donne, ispirato al film di Truffaut, cosa si vedrà in scena? Ma è uno spettacolo molto difficile da raccontare, perché è uno spettacolo che parla di me, nel senso che parte da L'uomo chiamava le donne, di Truffaut, io immagino che Truffaut sia ispirato a me, per scrivere la storia del protagonista Bertram Morano, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita all'adorazione dell'universo femminile, adorava tutte le donne e così sono io. È un gioco che io faccio con il pubblico, sull'amore, anche perché il linguaggio di oggi, di internet, sta secondo me rendendo tutto molto volgare, molto sintetico. Oggi per dire ti voglio bene si scrive Tvob. Ecco, invece noi proprio per questo, per reazione a questo, noi parliamo di un amore poetico, ricorrendo ai grandi poeti della storia. È uno spettacolo molto particolare perché comincia sullo schermo le immagini del funerale del protagonista, perché il film comincia così, col funerale. E al funerale la cosa curiosa è che sono tutte donne. E allora io farò il mio funerale anch'io. Grazie per la visione!